cari fratelli e sorelle specie in questi giorni contempliamo la passione che rivela al contempo la gravità del male e la grandezza e l'enormità dell'amore di dio lasciamoci trafiggere il cuore dal crocifisso perché ci muova al pentimento e lasciamoci commuovere muovere all'amore all'amore si risponde con l'amore e l'amore purtroppo è ancora spesso poco amato che il buon dio vi benedica e buona settimana santa a tutti